Nicole Elisabeth Egert è un'attrice statunitense, con ascendenze tedesche e inglesi A cinque anni la Egert fu introdotta nel mondo dello spettacolo, diventando anche Miss Universo nella sezione dei piccoli Comincia anche ad apparire in piccole parti alla televisione come attrice bambina Nel 1980, ad otto anni, ottenne un ruolo nel film Ricche e famose, con Jacqueline Bissat e Candice Bergon, interpretando la giovane figlia del personaggio di Bergon Diventa nota al pubblico soprattutto per la sua partecipazione a serie televisive di successo, è Chrissy Ucker in TJ Ucker, Marcy Ferguson in WSD Bossi, e Jamie Powell in Charles In Charge Nel 1989 presenta i Nickelodeon Kids Choice Awards con Will Wheaton È stata poi una dei molti bannini nella terza e quarta stagione della serie televisiva Baywatch Ha fatto un'apparizione in Married with Children nell'episodio Enemies come Shannon Nel 2004 ha interpretato il ruolo di Ginger nella prima edizione del reality show della rete TBS The Real Gilligan Island È stata la prima stella a comparire al The Super Mario Bros. Super Show È anche apparsa in Scott Bios 45 È single nel 2007 Il 23 settembre 2009 il canale VH1 ha annunciato partecipazione della Egert nella stagione invernale 2010 del Celebrity Fit Club Alta 1 metro e 57 centimetri, ha una figlia, nata nel 1998, di nome Dailin Dopo una relazione con l'attore canadese Corey Aiam, nel 2000 sposò Justin Erwick, da cui però divorziò nel 2002 Nel luglio del 2011 ha partorito la sua seconda figlia, Kigon Attualmente, smessi i panni dell'attrice, ha intrapreso l'attività di gelataia, attività che espletta vendendo i gelati su strada da un furgoncino Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane Grazie per l'attenzione